Libertà per il Sud Tirolo, il nostro nome, è il nostro programma. Così la Sud Tiroler Freiheit dà il via alla campagna in vista delle elezioni comunali del 3 maggio, dove si presenterà in 40 comuni. Noi abbiamo anche una rete di consiglieri comunali che si sostengono e per questo questa è la grande differenza per esempio con le pergoliste che sono presenti solo nel comune. Autodeterminazione e patriottismo, come sempre, sono le parole d'ordine del movimento che ora guarda anche al gruppo linguistico italiano. Per esempio a Boldano ci siamo presentati già una volta con un candidato di madrelingua italiana perché noi siamo solo un partito, un movimento per tedeschi e ladini. Se in Sud Tirolo ci sono italiani che dicono noi sosteniamo le vostre idee politiche, ci vediamo come tirolesi ma di madrelingua italiana, non abbiamo nessun problema con questa gente. Ma i temi etnici da soli non bastano per convincere l'elettorato nei comuni. Nel programma degli indipendentisti su Tirolesi si parla anche di politiche per calmierare i costi delle case, di misure per la conciliazione lavoro-famiglia, di viabilità. Insomma le sfide di tutti i giorni che i sindaci dell'SVP, troppo succubi della provincia, come li definiscono i successori di Evacloz, non sono in grado di affrontare nel modo giusto. E poi resta sul tavolo il tema del doppio passaporto. Certi esponenti politici italiani dicono che è inaccettabile per l'Italia che in Austria c'è un passaggio che riguarda il Sud Tirolo nel programma di coalizione e si vede che in Italia non si è disponibile di accettare anche questo ruolo che l'Austria ha per il Sud Tirolo e questo non cambierà finché i sud tirolesi non avranno anche la cittadinanza austriaca. Grazie. 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 Grazie.